Guardi, leggo sui giornali che ci sono tutte queste supposizioni, ho già dichiarato e lo confermo, io sono andato in Parlamento, ho chiesto il sostegno di gruppi parlamentari, poi c'è stata questa particolarità che il giorno in cui hanno giurato e il giorno dopo si è creato un nuovo gruppo parlamentare, appunto Italia Viva, un nuovo partito, però attenzione, non è nel mio stile governare mentre governo, mentre stiamo offrendo una soluzione, dopo aver chiesto la fiducia con determinato assetto, lavorare per sostituire un gruppo ad un altro, non è nell'orizzonte delle mie facoltà, delle mie possibilità, non l'ho fatto e non lo farò, quindi non è l'obiettivo sostituire un altro gruppo come è scritto sui giornali, un altro gruppo parlamentare che venga a sostituire Italia Viva. Bisogna in questo momento che Italia Viva ci pensi un attimo e chiarisca se si sente in condizione di offrire un contributo, di correre insieme e far correre il Paese, dopodiché valuteremo.